Ho iniziato a vedere il business in un altro modo, ho iniziato ad aprire un po' la mente, a creare un certo tipo di mindset e ho voluto, diciamo, investire sulle persone, sulle formazioni. Chiaramente dopo automaticamente ti viene tutto a cascata sul prodotto, sulla ricerca, sul controllo di gestione. DeCheckout, il format dove intervistiamo imprenditori e manager di successo nel campo e-commerce. Oggi con noi Matteo Gamboni di Mima Nera Shop. Ciao Matteo, un piacere averti qui. Grazie mille. Allora Matteo, la prima domanda dalla quale di solito partiamo è quella legata al tuo percorso, no? Quindi come ti sei evoluto, come è nato il tutto? Allora, io vengo da una famiglia di commercianti romagnoli, proprio hanno vari negozi e da prima che io nascessi avevano già negozi e attività commerciali. Ho studiato liceo grafica pubblicitaria e appena finita subito le scuole ho iniziato, il classico studente modello, ho iniziato a lavorare nel negozio dei miei genitori. Da lì ho iniziato a imparare le prime mosse, ho fatto le prime mosse per imparare un po' la parte commerciale e ho fatto addirittura bancarelle al mercato, cioè l'ambulante, e ho sentito un po' il bisogno di trovare delle soluzioni alternative. Ho iniziato a creare anche t-shirt, avendo un background di grafica pubblicitaria ho iniziato a creare disegni da inserire sulle t-shirt e venderle proprio nell'attività dei miei genitori. Da lì ho iniziato un pochettino a vedere che le cose funzionavano e muovendomi anche bene su internet ai tempi, parliamo del 2009-2008, ho iniziato a muovermi anche le prime armi sull'online, ebay, ebay annunci, facebook ancora era agli inizi, però anche su facebook si muoveva abbastanza bene. E ho iniziato a imparare queste parti, diciamo, online, di vendita online. Poi nel 2010 la mia ex fidanzata chiede una scarpa nel negozio dei miei genitori e dice vorrei fare una prova su questa Converse e la porto da un calzolaio e vediamo cosa viene fuori. Mi ritorna che ha inserito queste borchie sulla cavigliera della scarpa e ho detto cavolo, perché non proporla nel negozio? E da lì ho iniziato un altro nuovo piccolo business di personalizzare scarpe ai clienti, è iniziato ad andare subito bene. Ho detto dai, iniziamo a riutilizzare i vecchi strumenti che avevo di ebay, ebay annunci e facebook, e iniziamo a partire lì per allargare il bacino d'utenza. Successivamente, addirittura ho iniziato anche le prime mosse di advertising con ebay annunci, mettevo, pagavo la sponsorizzata per essere in prima fila e da lì arrivavano i lead, i contatti, dove dopo li gestivo tutti telefonicamente. Poi al tempo si usava anche il trucchetto di inserire tutte le keyword nel titolo, in long tail, e quindi magari scrivevi no Gucci, no Prada, e chi cercava quei brand comunque uscivi, no? O cosa oggi vietatissima! Su ebay era già un po' più difficile, perché girava molto fake ai tempi, e automaticamente ebay annunci era quello che dava più soddisfazioni, perché comunque ti iscriveva al cliente direttamente, non pagavi la fee, non pagavi, e spedivi direttamente a casa del cliente, quindi ho imparato anche la parte logistica di spedizioni. Quindi Mi Manera nasce quasi in maniera endemica, naturale, possiamo dire? Diciamo che il progetto Mi Manera sì, ai tempi, subito dopo, ho deciso di allargare un pochettino il business e dire ok, apriamo il laboratorietto, e ho aperto questo laboratorio a casa di mia nonna, perché in appartamento non ci stavo più. Quindi non in garage come in Bezos e gli altri? Allora, ecco, qui c'è un piccolo aneddoto, che i miei amici mi prendono in giro continuamente su questa cosa, che ho lanciato una linea di private label due anni fa, con il claim, il payoff di Born in a Garage. Ma fondamentalmente è tutto vero che siamo nati dal garage di mia nonna e tutti i miei amici dicendo, ah hai preso spunti di marketing dai soliti Steve Jobs, Bezos, Enzo Ferrari, eccetera. Ma fondamentalmente è tutto vero, quindi non è che ho dovuto raccontare cose differenti. E niente, abbiamo iniziato un piccolo laboratorietto e da lì piano piano ho cresciuto, ho detto facciamo una cosa, c'è un mio vecchio compagno di classe, che si è laureato come web designer, l'ho chiamato e abbiamo iniziato a creare un e-commerce insieme a casa sua, in camera sua proprio, era un prestashop un po' traballante, però abbiamo iniziato questa avventura sull'e-commerce e piccoli risultati, era iniziato a crescere piano piano, anche senza sponsorizzate e da lì è partito diciamo il concetto. Che anni parliamo Matteo? Parliamo 2011 più o meno, 2012 massimo. Poi... Si poteva già vivere di organico al tempo solo di organico? Allora, l'organico un pochettino ci ha aiutato la parte retail, perché comunque si ammarcavamo tutte le scarpe con activesport.it, ai tempi il dominio e il brand era chiamato activesport.it, che era il famoso negozio dei miei genitori. Si, si poteva vivere di organico un pochettino, c'era qualche sponsorizzata su Facebook, c'era, però le prime armi, tutto casalingo era. Successivamente ho aperto un negozio a Cattolica, monomarca, cioè tutto di scarpe personalizzate e il secondo l'anno dopo a Rimini. Quindi è stato molto veloce tutto l'insieme. Ecco, un piccolo aneddoto sull'online di quei tempi, giusto per farti capire un po', il livello di conoscenza era abbastanza scarso, comunque sia, però ci provavi, ci provavi, era tutto un mate. E mi è capitata un'amica di mio fratello che mi dice guarda, vediamoci a casa di tuo fratello perché ho un'idea per il tuo e-commerce, per il tuo prodotto. Ci vediamo e mi racconta, guarda, ho un'amica che io gli do i miei prodotti, io li vendo su ebay, vendo il vintage, glieli do a lei e Zubotti da 3 o 4 mila euro me li vende in un colpo. E gli faccio, guarda, io ero tutto scettico, ho detto, proviamo, vediamo. E lei mi dice, però dobbiamo capire bene la percentuale da dargli e che mi daresti a me. E ho detto, ma di che tipo? Perché io comunque avevo il mio, avevamo già un annetto di e-commerce, in quel periodo fatturavamo sui 70-80 mila euro, che per me era oro, era oro sull'e-commerce fatturare quelle cifre. E ho detto, vediamo, perché io sinceramente darti una parte dei miei fatturati, perché non riesco a tracciarli e non ho l'intenzione di dartela. E comunque l'affare non si è fatto, non abbiamo fatto niente, alla fine era la ragazza di cui parlavamo e stavamo parlando da tempo anche su Skype con lei, era Chiara Ferragni di The Blonde Salad, era il blog, e questo è infatti una vicissitudine un po', un treno non preso, diciamo. Col senno di posto. Però tutta colpa di Google Analytics, quindi tutta colpa di Google Analytics, perché non sapevo minimamente come tracciare i dati e tutte queste parti qua. Ecco, qui hai aperto sicuramente un tema molto interessante, che è quello di iniziare a fare e-commerce anche senza formazione, senza avere dei mentori. Poi e-commerce school è nato nel 2014, quindi ancora non ci conoscevi. Però ti volevo chiedere, hai avuto dei mentori nel tuo percorso che ti hanno aiutato, o hai dovuto muoverti sempre tramite Learn by Doing, quindi facevi cose, sperimentavi senza sapere se stavi facendo bene o male? Sì, cioè, veri e propri mentori sulla parte online, no. Cioè, andavo proprio a strumentarizzare, andavo un po' a aggiornarmi online, come funzionava questo, tra l'altro non c'era neanche video, grossi video su YouTube dove tu potevi anche vedere la parte pratica. E cercavi di capire, cercavi di provare, tantissimi errori, tantissimi. E poi piano piano, chiaramente con l'evolversi di internet, con l'evolversi degli e-commerce, la formazione è diventata sempre più facile. Addirittura nel 2000, no, due anni fa è stato uno dei vostri corsi, è stato uno di quelli più, credo, i più importanti che ho fatto a livello di e-commerce, che era il masterclass di terzo livello, credo. Quello è stato abbastanza formativo per me, perché comunque inizi ad imparare tecniche nuove e strumenti nuovi e strategie nuove. Sei sempre aggiornato con il mondo che va alla velocità della luce. Ecco, tornando a Mi Manera Shop, che ovviamente abbiamo dato per scontato quello che vende, ovviamente ce l'abbiamo qui davanti, quindi bellissime scarpe personalizzate, e siete cresciuti tantissimo in questi anni, oggi fatturate diversi milioni di euro, e ti volevo chiedere qual è stato un po' anche il percorso di Mi Manera, la crescita, che cosa vi ha fatto crescere, secondo te, ma anche poi se ci vuoi parlare di quelle che sono state le criticità, e anche per dare un po' dei consigli agli imprenditori che vogliono iniziare a fare e-commerce. Sì, allora, non ho detto di... Cioè, da ActiveSport.it il passaggio successivo è stato il rebranding in Mi Manera Shop, perché il rebranding? Perché in Mi Manera, poi il dominio online è Mi Manera Shop, perché fondamentalmente ho detto, visto che comunque Nike, Adidas, Conver, ci aiutano a far crescere il nome, ho detto, diamo il nostro marchio, diamo il nostro senso, e iniziamo a investire sul nostro marchio, perché ti aiutano comunque a far crescere anche la parte organica, a far crescere la parte di branding. e ci sono state tante difficoltà di percorso, tante vicissitudini, sicuramente le cose che mi ricordo di più sono gli errori commessi, che le mosse efficaci fatte, perché quelle le dimentichi, mentre gli errori non le dimentichi mai. però l'investimento sulla ricerca è fondamentale e credo che ampliare il business, il business, farlo crescere, investire sull'azienda è fondamentale, sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Gli errori commessi in questi anni qui è sicuramente uno su tutti, posso dirti di aver imparato la parola diversificazione. Nel 2018 con l'uscita della GDPR fino ad allora noi investivamo completamente su Facebook, proprio Google Ads, credo che saranno stati 100 euro al mese, 200 euro al mese, e investendo tutto su Facebook ci hanno bloccato account pubblicitario, business manager, pagina, completamente tutto. Ho avuto un annetto abbastanza difficile dove mi maniera era quasi al tracollo, fortunatamente la parte retail ha dato respiro alla parte online e da lì ho iniziato a piccoli passi a ricreare strategie per investire su Google Ads, investire su influencer marketing, affiliation marketing, remarketing dinamico tramite altri strumenti. E fortunatamente piano piano quel bacino si è ricreato e dopo un annetto ci hanno risbloccato i canali e siamo ripartiti. Sicuramente sia, proprio questo me l'ha insegnato lato vita, lato finanziario e lato imprenditoriale, proprio la diversificazione. Sia di marketing ma anche di canale distributivo, nel vostro caso, con i negozi, ma dei negozi poi ne parliamo dopo. C'è stato qualcosa a livello di prodotto, di strategie che vi ha dato un boom in determinati anni oppure siete cresciuti in maniera diciamo abbastanza costante? Sì, allora, siamo partiti anno dopo anno abbiamo aggiunto vari brand e siamo partiti inizialmente con Converse e poi piano piano si è inserita Adidas e ti è iniziato un altro bacino di utenza fino ad arrivare a Nike e a Birkenstock. Poi automaticamente stai crescendo su quel lato lì e il brand sta crescendo, le ricerche organiche stanno crescendo e abbiamo detto perché non investire sul nostro prodotto, su una private label. quindi questo è negli ultimi due anni è proprio la direzione che vuol prendere l'azienda a creare un prodotto proprio e valorizzare quel prodotto lì. Chiaramente il core business è ancora la customizzazione dei brand di sneakers. Questo è il vostro prodotto? Questo è il vostro prodotto, sì. Sì, abbiamo vari target, abbiamo la sposa, abbiamo un po' le cerimonie, abbiamo l'uomo, la donna, cioè stiamo iniziando a crescere anche da quel lato lì. Ecco, sicuramente ti volevo chiedere quanto la personalizzazione aiuta la vendita sull'online anche un po' a differenziarsi magari da offerte già molto distribuite? Allora, ottimo tema perché negli ultimi anni è partito un vero e proprio trend negli ultimi 4-5 anni è partito un vero e proprio trend proprio anche dei grossi player sul mercato a partire magari anche da Gucci a tutti diciamo le catene top nel mondo perché è proprio un cambio radicale del cliente e il cliente proprio a oggi vuole una cosa unica vuol sentirsi unico vuol sentirsi speciale vuol farsi notare di più dagli amici dai colleghi vuol farsi le foto per Instagram bravissimo bravissimo e quindi la personalizzazione credo che è uno di quei canali che in qualsiasi settore è un ottimo un ottimo sviluppo per la crescita anche perché la personalizzazione poi è anche basata su chi personalizza il prodotto e quindi se sei magari bravo è un design diverso dagli altri comunque ti allontani anche da una competizione diretta immagino e ci sono state delle complessità o vedi delle complessità nel modello di business oppure ti senti sicuro da qui ai prossimi 20 anni anche se nell'online di sicuro non c'è tantissimo la storia ci insegna questo allora no criticità ci sono continue e una difficoltà oggi è la scalabilità la scalabilità sul nostro metodo di business è molto complessa perché comunque tu sei appoggiato ad aziende dove comandano fondamentalmente e la reperibilità del prodotto inizia a essere sempre più difficile perché comunque ti devi adattare al cambio di gestione delle altre aziende quindi Nike esempio due anni fa ha fatto retromarcia ha detto ok iniziamo a tagliare tutti i retail dal mercato e hanno iniziato a tagliare proprio il prodotto quindi reperire il prodotto per noi è stato difficile quei due anni adesso stanno ritornando sulla loro strada scelta che non ha premiato Nike da quello che abbiamo letto insomma specialmente in borsa bravissimo hanno perso quote di mercato hanno perso terreno rispetto ai competitors più che altro e hanno fatto retromarcia perché competitors tipo Adidas e New Balance stanno mangiando terreno quindi la scelta della private label è anche in funzione di avere un prodotto che possa essere scalabile essere meno dipendenti dalle logiche distributive dei brand ovviamente e il target o meglio il vostro audience è un audience giovane allora il target in tanti pensano che il target principale sia dai 16 ai 20 anni fondamentalmente il target principale il nostro è 35 55 perché comunque iniziamo a fare lavorazioni di un certo livello e che vanno più sulla fascia luxury che sulla fascia medio-bassa quindi automaticamente anche il giovane che si può permettere di comprarla chiede prima ai genitori e gliela comprano magari ai genitori e poi si quel target che ti ho appena descritto diciamo è il più alto spendente è la fascia alto spendente donna sicuramente donna è la è il genere dove sviluppiamo di più adesso ci sta crescendo un sacco anche la parte uomo la parte cerimonie stiamo investendo anche su su questi canali qua c'è qualche attività non solo di marketing ma anche di gestione aziendale o di attività interne che avete fatto sul prodotto o determinati investimenti che in questi 13 anni credo 13 anni vi ha dato un boost allora attività guarda la più la più concreta proprio che ha dato sviluppi enormi è stata è controituntiva ma è stata la formazione su me stesso cioè e ho investito su me stesso ho iniziato a vedere il business in un altro modo ho iniziato a aprire un po' la mente a creare un certo tipo di mindset e ho voluto diciamo investire sulle persone sulle formazioni e chiaramente dopo automaticamente ti viene tutto a cascata sul prodotto sulla ricerca sul controllo di gestione quindi anche lì sono cresciuto lato finanziario ho aggiunto delle skills dove ancora magari sono carente su alcune ma le sto performare le sto migliorando e questo secondo me è l'investimento più grosso che ha fatto l'azienda perché comunque mi sono messo in discussione e avevo visto un rallentamento sull'azienda a oggi siamo in forte espansione e stiamo gestendo vari canali internazionali e europei e poi sicuramente mosse di marketing hanno dato un bello sviluppo sulla parte fatturati due su tutti sono l'ottimizzazione della SEO e la struttura di flussi di automation marketing quelli ci hanno aumentato la parte organica di veramente un sacco ci hanno quasi raddoppiato la parte organica e quindi vai a prendere introiti senza pagare un euro fondamentalmente ti paghi prima quando investi diciamo sull'attività SEO poi ti rimane nel tempo più o meno consolidato ah intanto complimenti perché non è scontato ma una linea comune di tutti gli imprenditori che vengono qui che intervistiamo è data dal fatto che si sono messi in gioco si sono formati perché spesso si sottovaluta a Matteo le competenze aggiuntive che servono a livello imprenditoriale nel momento in cui si diventa imprenditore digitali o imprenditore e-commerce perché magari uno può essere bravissimo sul retail o sul fisico poi quando va a gestire un e-commerce si trova tutta una serie di attività competenze che deve sviluppare che se non ce l'hai insomma sappiamo bene che è un po' una giungla anche no quando ti avvicini al mondo dei software dei fornitori tutto sembra funzionare e molto spesso invece funziona meno si qui guarda ti posso dire che sono arrivato a un punto un anno e mezzo fa quasi due massimo dove sentivo che o prendevo la strada della gestione aziendale o prendevo la strada dell'e-commerce perché comunque solo l'e-commerce è una parte importante del business però non c'è solo quella e automaticamente devi concentrarti su tutto e l'e-commerce richiede una velocità di aggiornamento spaventosa quindi devi essere sempre sul pezzo e devi avere il tempo da dedicargli sulla formazione sugli aggiornamenti su tutto e avendo iniziato un percorso di una mentalità diversa diciamo dove per me le persone sono quelle che creano l'azienda ho iniziato a delegare il reparto marketing il reparto e-commerce dove pesavo cioè pesava enormemente il mio tempo lì dentro e tra l'altro vi ho rubato un ragazzo Paolo dove che era in formazione da voi dove nel giro di un anno e mezzo chiaramente gli sono stato un po' dietro perché comunque le paure erano abbastanza perché comunque già eravamo su cifre sopra il milione e nel giro di 12 mesi più o meno non dico da solo con tutto il team ha sviluppato l'e-commerce e ha raddoppiato quasi ha fatto un 80% del fatturato in più quindi lì diciamo è la è proprio lo sviluppo cioè ha preso forma proprio quello che volevo volevo sviluppare nell'azienda voglio iniziare a delegare a prendere persone con determinate skill determinati atteggiamenti e quindi ho iniziato il mio percorso personale proprio nella selezione delle persone cioè che ritengo fondamentale perché comunque l'azienda è formata da persone si cresce con le persone e hai detto una parola chiave molto importante che è quello della delega perché qui magari ti faccio respirare in secondo molti imprenditori sono accentratori delle attività o hanno delle difficoltà spesso legate anche al mindset all'approccio nell'andare a delegare agli altri per sfiducia o per mancanza anche di capacità di lavorare con le persone e hanno questa difficoltà di andare a creare delle strutture con una parte operativa e del management diciamo intermedio sulla quale andare a scaricare tutte quelle operatività che dal mio punto di vista è anche corretto fare in una prima fase perché anche io quando ho iniziato a fare e-commerce facevo i pacchi facevo tutto poi nel tempo ovviamente crea struttura però quello che vedo è che poi si ha questa difficoltà e si rimane sempre all'interno di tutta una serie di attività operative e non si arriva quasi mai a fare il vero lavoro dell'amministratore che significa lavorare comunque su degli aspetti ovviamente non di marketing ma più interni ok più di business di controllo di gestione e faccio sempre l'esempio dei due imprenditori che aprono un ristorante e c'è quello che magari lavora in cucina e fa il cuoco oppure si mette in cassa e c'è l'altro che invece prende del personale lo fa lavorare sta a casa e magari passa una volta al giorno a vedere l'incasso ok se non ha demandato anche quello sono due approcci diversi ecco qui mi voglio legare alla domanda per te è stato naturale avere questo approccio oppure hai avuto anche difficoltà e hai avuto bisogno magari anche magari lato nostro no di un'alzata di mano dicendo guarda Matteo ora puoi scalare ora puoi andare a fare un altro lavoro allora sì io sono partito proprio da quell'ambito lì appunto due o tre anni fa ho fatto un change proprio radicale di mindset e ho detto ok iniziamo a oltre i corsi di formazione dove comunque apri la mente perché fondamentalmente ti fanno aprire la mente però sei tu stesso che devi iniziare a mettere in pratica quello che studi e ho detto così non si può andare avanti così l'azienda vedo delle flessioni ero un po' il padre padrone il diciamo da noi in Romagna si dice sburone sburro dell'azienda ho iniziato a cambiare proprio approccio chiaramente cambiando approccio cosa ti ritrovi ti ritrovi che in azienda più o meno avevo 30 persone e tu cambi mentalità e le altre che magari da 5-6 anni o da 2 anni sono della tua vecchia mentalità lì ho trovato dei veri ostacoli proprio piano piano quando il clima è cambiato quando tutto è cambiato abbiamo iniziato a alcuni se ne sono andati perché comunque cioè e siamo amici più di prima e perché comunque le visioni cambiano e e non ci si riallinea più a oggi ti posso garantire che comunque sia il ruolo del ristoratore che seleziona le persone giuste le mette nel ruolo giusto è più fondamentale di quello che fa la parte operativa e si sporca le mani poi è chiaro la parte di operatività la devi sempre conoscere cioè io dico sempre partire dal primo gradino della scala ti fa vedere tutto il paesaggio ti fa conoscere tutti i gradini mentre se rimani all'ultimo gradino non arrivi mai in cima è un po' questo sì bisogna avere poi anche la capacità di sapere che quando deleghi magari non riuscirai mai avere lo stesso risultato in alcune cose come se la facessi tu però meglio insomma fatto che perfetto si dice e comunque spesso dobbiamo anche capire che molte volte delle persone qualificate lavorano molto meglio di noi nelle loro specialità quindi assolutamente sì un discorso di approccio su quale noi in e-commerce school insomma lavoriamo tanto in formazione specialmente su quella un po' più avanzata più manageriale imprenditoriale è chiaro che poi dipende anche un po' da come si è come persona perché quando si parla di essere imprenditori bisogna anche sapersi mettere in gioco tu ci hai raccontato che ovviamente sei un po' nel DNA essendo figlio di commercianti sì però la domanda è perché non hai scelto di fare un lavoro magari più ordinario magari dipendente senza pensieri con il weekend libero e quella quella è questa è un'ottima domanda e sinceramente non te lo so spiegare bene e sicuramente vuoi vuoi dimostrare vuoi dimostrare ti senti il bisogno di dimostrare di crescere di potercela fare e di poter fare impresa perché fondamentalmente è un'impresa e c'hai quel fuoco dentro che ti dà la carica tutti i giorni ti fa svegliare la mattina il perché il famoso perché magari però sinceramente non non ti so dare una vera e propria motivazione a parte queste cose qua allora torniamo sul sul business e sul modello ok nasce prima il sito nascono prima i negozi o in contemporaneo allora venendo da attività commerciale dei miei genitori sono nati prima i negozi però in concomitanza la fortuna è stata proprio essere partito cioè subito sulla parte e-commerce quindi negli anni dove advertising credo che con 10 euro facevi l'advertising che adesso paghi 500 e quindi è iniziato a sviluppare l'online pur carente di skill o di tecnicismi però comunque sia ti dava ti dava un bel aiuto e la parte retail che era quella che conoscevo di più di tutti ho iniziato a svilupparla prendo il terzo quarto negozio a Riccione e poi ne abbiamo aperto un quinto a Cesenatico e adesso stiamo sviluppando anche quell'area lì e ecco molti negozianti oggi lamentano problemi di pedonabilità di profittabilità anche no rispetto a dei costi che comunque i retail ha e qui non possiamo far finta che non ci siamo questi costi secondo te oggi un negozio fisico può vivere senza l'online? a oggi mi sento di dire nì nì dipende molto dal prodotto che si vende comunque sia i costi della vita stanno aumentando gli affitti aumentano inizia a essere difficile mantenere una parte retail senza un online perché comunque sia online hai la possibilità di far passare i tuoi clienti sulla parte online quindi anche un turista che ti capita tu lo puoi comunque recuperare chi non ha un online non so se riesce a oggi 2024 a mantenere bene una parte retail se non hai un prodotto super che poi per online non intendiamo obbligatoriamente avere un sito e-commerce ma sfruttare l'online quindi già banalmente parlando di quelle che sono le opportunità di advertising geolocalizzato di schede my business ben fatte e quant'altro che già quello aiuta comunque la prima abilità e quello che vediamo è che quasi nessuno dei negozi oggi sfrutta delle campagne mirate di contenuti o di diciamo di traffico che viene portato poi nel punto vendita o si usa ancora molto poco pochissimo anche noi ne facciamo qualcuna l'abbiamo fatta su dubai soprattutto però non le usa nessuno cioè che non serve proprio puoi non avere un e-commerce ma con una pagina semplice pagina facebook puoi portare traffico campagne drive to store eccetera e lo puoi portare in negozio puoi creare un lead nuovo e ci stiamo lavorando su questo abbiamo il progetto su una nuova apertura abbiamo proprio un progetto un budget dedicato su queste campagne quindi e comunque fate attività anche di omnicanalità quindi cercate di portare dei lead dal negozio all'online e viceversa assolutamente sì assolutamente sì anzi è fondamentale oggi ci sono strumenti che ti permettono di di scalare anche da quel lato lì e noi stiamo appunto investendo per un nuovo software dove sia retail e online sono creano flussi di automation di lead generation eccetera molto più performanti rispetto per esempio Shopify adesso non è l'obiettivo andare sul tecnico Shopify plus offre no poi anche il post plus post e quindi ti permette di andare a unificare quello che ha dato l'utente che oggi è fondamentale avere degli strumenti comunque integrati tornando sui negozi ma se io domani volessi aprire un negozio di scarpe o un negozio fashion su strada che consiglio mi daresti allora non per scoraggiarti oggi il fashion è in forte crisi per esempio i marketplace sono in una situazione abbastanza critica ci sono marketplace dove appunto stanno tagliando dipendenti stanno crollando anzi stanno fallendo alcuni uno dei più grossi è stato rilevato adesso credo anche farfetch sappiamo bene possiamo dirlo tanto è un'ontizia di giornale quindi non ok e quindi nel senso ci sono delle grosse forte crisi lato fashion sul marketplace poi sinceramente su altri canali altri prodotti so che ancora sta andando bene ad esempio ma un amazon se tu hai un prodotto adatto a amazon oggi è vero che ti chiede tante fee ti chiede tante percentuali però ti crea un bel business si che poi il concetto di fee nel momento in cui vai a farti l'acquisizione dei clienti in autonomia bene o male amazon le ha studiate quelle percentuali che chiede no? perché l'advertising incide bene o male oltre i costi variabili che spesso dobbiamo andare ad associare alle vendite e ti faccio anche la domanda inversa può un e-commerce vivere senza negozio? allora questo è un po' più facile e sì mentre il retail era nì e l'e-commerce sì sì ma è difficile perché devi comunque fare una buona strategia prima di partire avere secondo me tutta la struttura come base di partenza già un po' automatizzata già un po' performante e la parte principale secondo me è il prodotto prodotto a oggi chi parte con l'online deve selezionare un ottimo prodotto perché c'è comunque c'è inflazione di di tanta c'è tanta offerta c'è quindi è automatico che tu ti vai a scontrare con sia i big che i piccoli quindi se tu hai un prodotto dove c'è poca inflazione allora è molto margine e puoi puoi iniziare a scalare la parte online soprattutto il margine è importante perché se sei un poor player e non puoi fare economie di scala che invece fai magari se è un negozio è chiaro che devi fatturare di più ma anche avere una marginalità che ti permetta di coprire tutti quelli che sono i costi fissi ma anche tutti i costi poi di struttura e variabili mentre è aperto anche un negozio a Dubai che io ho visto nel mall ci sono passato davanti sì allora nel 2021 abbiamo aperto la Mima Nera International che è la società dove facciamo vendita online per la parte Middle East e un negozio nel mall of Famerate la fortuna è stata un po' la pandemia che è arrivata questa famosa mail di una general manager del mall dove ci chiedeva appunto che se volessimo aprire un negozio nel mall of Famerate perché aveva comprato le nostre scarpe e gli piacevano e voleva il nostro brand all'interno ho fatto tutti i permessi che si potevano fare ho preso in piena pandemia in pieno lockdown sono riuscito ad andare a Dubai e nel giro di una ventina di giorni abbiamo firmato il contratto per per aprire nel negozio poi da lì è iniziato un po' il nostro business c'è stata una buona crescita sul mercato e siamo molto conosciuti proprio a Dubai e sul anche come nome proprio perché comunque la parte di retail serve serve un sacco cioè aiuta un sacco l'online ho notato questo in quel mercato e quindi automaticamente molta gente che viene a comprare ma non compra online cioè è un po' differente dal mercato italiano per dire ci sono strategie di marketing che credo che noi adottavamo 7-8 anni fa che ti danno più risultati di una strategia perfetta di automation o advertising per far un esempio ci è capitata una abbiamo ingazzato una personal shopper VIP e che gli diamo una percentuale sulle vendite che che fa ai suoi ai suoi clienti e ci sono questa questa ragazza qui da sola ti porta scontrini a volte ci sono capitati scontrini da 12.000 euro per dire però dopo è chiaro sono mosche bianche però questa è una mossa di marketing dove ti fa capire che comunque non c'è solo advertising poi è vero che te la porta a retail ma comunque parliamo sempre di omnicanalità e la tenda è sempre quella poi sono strategie senza tempo che le puoi digitalizzare o meno ma hanno sempre funzionato dubai è un mercato alto spendente c'è qualche particolarità rispetto al mercato italia che hai visto sì c'è un diciamo una possibilità di spesa molto più ampia a oggi comunque sia stanno la parte retail anche lì sta soffrendo ci sono molte catene che sono in difficoltà ho sentito parlare anche il mese scorso però la possibilità di spesa del cliente singolo è molto molto più elevata di altri paesi e poi comunque sia ci sono abitanti anche normali con un portafoglio normale però sì ci sono a volte dei clienti che non ti pare vero quello che è il potere di spesa ok e pensi di continuare a investire sui negozi sia all'estero che in Italia sì sì anche perché l'online cresce perché tu scali anche la parte retail quindi aumenti il bacino sempre di lead generation e oggi Milano è il prossimo obiettivo da qui a tre mesi dovremo aprire Milano e quindi ci vogliamo focalizzare su città più di 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 massa diciamo comunque sia siamo adesso in Italia localizzati più che altro nella riviera romagnola vogliamo diversificare appunto vogliamo iniziare ad andare su Milano e a oggi la parte internazionale stiamo trattando per l'apertura di un primo store negli Stati Uniti ottimo ottimo è chiaro che un vantaggio di fare da tanti anni e-commerce e che puoi avere dei dati che ti aiutano anche sulle aperture poi dei punti vendita credo che questo sia importante e spesso anche sottovalutato parlavo l'altra volta del fatto che Shin dopo un'apertura a Torino abbia aperto uno store a Catania ma perché Catania e non magari Milano Roma Napoli no Firenze perché era già localizzata più a perché i dati dai dati hanno visto che comunque c'era rispetto alla grandezza della città ovviamente una forte propensione all'acquisto e invece per quanto riguarda i contenuti no perché poi vediamo queste scarpe comunque colorate personalizzate però voi lavorate tantissimo con i contenuti Matteo e secondo te quanto sono importanti per voi quale sarà il ruolo da qui in avanti che avrà insomma anche nel vostro day by day a livello di struttura allora chiaro che i contenuti per il nostro prodotto sono fondamentali comunque sia abbiamo un prodotto che è abbastanza spinto i contenuti cerchiamo di dargli un una salsa molto più piccante rispetto ai classici contenuti quindi devi per forza investire su video foto canali come TikTok stiamo investendo su GC particolari selezionati anche su collaborazioni dove facciamo creare i contenuti a certi artisti e fanno video e foto professionali dove mettiamo in collaborazione la loro la loro scarpa e attualmente stiamo anche facendo una un chiamiamolo branding ma stiamo facendo il brand manual rivedendo un po' tutto il brand manual dove appunto ci sarà tutta la strategia per i contenuti del 2025 in avanti quindi stiamo anche risettando questa parte d'immagine proprio perché il contenuto vuole la sua parte e non non investire sui contenuti è è un altro di quei fattori che ti possono determinare una mancata crescita chiamiamo sì anche perché le dinamiche dei social media sono quelle di dare sempre più spazio poi anche la parte di vendita no che possa portare traffico o possa essere transata direttamente dentro il social media però se un'azienda oggi è già predisposta alla produzione dei contenuti ha un vantaggio competitivo sia nel presente ma soprattutto nel futuro credo e secondo te i marketplace o grandi portali riusciranno mai a riuscire a proporre questo prodotto o magari ad ospitare il vostro allora stiamo provando a farci ospitare a oggi non tutti ci accettano perché comunque hanno magari il prodotto base come come esclusiva e quindi non possono non possono non possiamo vendere questo prodotto custom sui loro portali altri lo stiamo facendo con altri qualche vendita c'è però non è il nostro proprio focus principale e sicuramente con la private label spingeremo più su questi canali perché comunque ti danno ti aumentano anche il bacino di conoscenza e il marchio però diciamo che non credo che i brand grossi inizieranno a fare questo discorso da un lato lo stanno già facendo lo stanno già facendo con personalizzazioni esclusive o collaborazioni con artisti designer ad esempio Nike pair of white con Virginablo che ha creato un business anche lì simile alla customizzazione perché comunque era un design di un altro brand che customizzava la Nike però ci sono queste dinamiche tutti i giorni sui brand non lo fanno in modo artigianale come noi lo fanno in modo industriale quindi che è molto differente è molto differente ok allora siamo arrivati quasi alla fine ma prima di chiudere ti volevo chiedere immagino che tu abbia iniziato da solo e ci chiedono sempre secondo me è importante anche far capire quelle che sono state nel tuo caso le persone che hai inserito negli anni e quelle che hai oggi quindi come hai strutturato il team perché spesso la difficoltà anche capire che tipo di persone andare a inserire poi ovviamente dipende anche dal tipo di business e della struttura allora sì diciamo che sono partito con classica azienda familiare con tra l'altro mio fratello ancora in azienda che mi supporta abbastanza e e ho inserito piano piano delle persone chiaramente tutto sul lato produzione perché l'e-commerce era tutto mio era il mio campo ero il numero uno al mondo il mio tesoro piano piano ho iniziato a cercare persone con come dicevo prima con delle skills dedicate con delle attitudini più che altro portate anche a un determinato a una determinata mentalità e quindi ho inserito piano piano persone in vari ruoli chiaramente siamo partiti dalla base dove avevamo parte commerciale e produzione e abbiamo iniziato a inserire contabilità controlli di gestione e vabbè tutto il reparto marketing social media e reparto stile reparto stile sembra una un'ipocrisia ma l'ho implementato da tre anni e prima ero io che creavo prodotti e quando mi svegliavo il mattino andavo in laboratorio e creavo prodotti a oggi c'è proprio un team dedicato dove chiaramente c'è ancora il mio supporto però sviluppano prodotti tutti i giorni e quindi nel senso stiamo ampliando piano piano tutti tutti i ruoli e tutti i reparti delle classiche aziende quindi c'è stato un bello sviluppo c'è stato oggi siamo in 35 con Dubai più o meno e siamo ancora alla ricerca di persone e quindi sono quando si cresce si è in ricerca costante e l'ultimissima domanda personale questa e quali sono le tue passioni fuori poi da e-commerce allora e vabbè calcio lo sport e giocavo calcio quindi dai un pochettino di passione iniziavo a basket in solitezza no calcio invece poi mi sono fatto male ho smesso e sono tifosissimo della Lazio tra l'altro e so che questa cosa non ti non ti va a genio no e il altre passioni c'è la parte si di investimenti sulle cripto che è web3 dove dai diciamo è 4-5 anni che che sono studio questo mondo qua che per me sarà il futuro sarà il futuro anche del web stai già comprando un negozio dentro il metaverso o l'hai già comprato dire la verità no però con Shopify Plus metterò il trust wallet o qualcosina per i pagamenti in cripto sicuramente vuole gli NFT sulle scarpe su alcune collezioni quello ci stiamo ci stiamo collaborando con un'azienda adesso usciremo tra poco con qualcosa del genere appena riparte l'hype c'è la burran Matteo io ti ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi un grande in bocca al lupo a te il progetto di maniera a tutti i tuoi collaboratori e sostienici sul nostro canale lascia un like o condividi il video noi ci vediamo alla prossima puntata di The Checkout ciao e grazie ciao a tutti 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 grazie a tutti